E da parte mia, quello che ribadisco in questa sede, è che credo che il sistema, così come è oggi organizzato, vada rivisto. Credo che il nuovo governo dovrà rimettere mano alle modalità con cui si, ai tempi, alle modalità con cui si determinano i cambiamenti di colore, le possibilità di apertura e di chiusura, perché così mi sembra veramente un po' troppo schizofrenico e soprattutto è stato dimostrato che non va nella direzione di contrastare efficacemente l'epidemia.